Operazione State Sicura, Vicenza progetta un agosto anticriminalità. Quando la città si svuota è il momento in cui bisogna alzare la guardia. Il sindaco ci svela il piano contro degrado, furti e droga. Noi abbiamo elaborato un piano di controlli naturalmente con il sostegno della prefettura e della questura che ne sono anche direttamente responsabili. Lo facciamo sia all'interno del centro storico che nei quartieri, attraverso dei controlli soprattutto nei fini settimana e poi un piano da parte della polizia locale per andare non solo in centro storico, nei parchi, ma anche nei parchi di quartiere per coordinare i controlli del territorio. L'obiettivo è rinforzare non solo il pattugliamento delle forze dell'ordine ma anche della vigilanza privata a cominciare dalle zone verdi come Parco Fornaci dove c'è un custode otto ore al giorno che apre la mattina e chiude la notte. A Campomarzo, Giardini Salvi e Parco Quirini, i controlli della polizia locale saranno serrati. Tre pattuglie per turno ogni giorno fino alle ore 24 della sera e per la notte poi intervengono polizie e carabinieri. Anche i controlli nei quartieri saranno garantiti dalle forze dell'ordine. Da Via Allende a San Lazzaro le pattuglie della polizia locale gireranno in funzione anti-degrado, anti-accattonaggio e per il rispetto del codice della strada. Stiamo lavorando proprio in queste ore per garantire un'assunzione dopo il concorso di vigili di almeno nove vigili. Probabilmente arriveremo addirittura a una notizia in anticipazione, all'assunzione di altri due, e quindi undici vigili dal mese di settembre. Infine, per quanto riguarda le zone più colpite dall'accattonaggio molesto, la polizia locale lavorerà con l'ausilio delle telecamere, in particolare in piazzale della Vittoria, a Monteberico, nel parco Cattaneo e nel parcheggio dell'ospedale San Bortolo. Resta infine in vigore l'ordinanza che vieta a tutti di sedersi sulle scalinate dei monumenti. Sì, noi abbiamo confermato e prorogato l'ordinanza con la quale vietiamo a tutela dei monumenti la seduta su scalinate o lo stazionamento davanti ai monumenti, in particolare il Chiricati, la Basilica e Ponte San Michele. Queste sono le aree dove interveniamo di più. E questo sta dando anche dei frutti positivi, nel senso che, in particolare un esempio su Ponte San Michele, la situazione è piuttosto sotto controllo. Il problema nasce nelle ore notturne e su questo stiamo lavorando anche sulla visosorveglianza.